Un tutoraggio a favore dell'alfabetizzazione digitale per gli Over 60. Come si articolerà questa iniziativa? Sì, questa ci tengo a dirlo. È un'iniziativa completamente promossa ma anche finanziata interamente dall'assessorato alle pare opportunità del Comune di Pavia. Un'iniziativa che viene offerta ai cittadini Over 60 per l'acquisizione in toto dello Speed. Lo Speed che sempre più oggi è essenziale per tutti anche perché dà la possibilità di accedere a quelli che sono i servizi come il fascicolo sanitario, l'Inps e tante altre cose. Il servizio sarà così articolato. I cittadini potranno chiamare il numero 0382 399 700 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o di inviare una mail a tutorspeed.pv.it. I cittadini, una volta che si sono prenotati, innanzitutto il servizio sarà attivo dal 2 di maggio al 22 di luglio e una volta che si sono prenotati tramite mail o tramite telefono potranno anche scegliere la sede dove recarsi. Quindi o Palazzo Mezza Barba o una delle quattro sedi decentrate.